sapete chi è il dottor antonio davino è il presidente della fimp la federazione italiana medici pediatri mimar e perché ci parli di questo presidente perché ieri ha rilasciato un'intervista ad adn kronos che voglio leggere con voi scuola ecoviddi pediatri lieve aumento contagi ma peggio deve arrivare ieri 17 ottobre 2022 alle 13 22 e qua comincia la veggenza oggi le temperature sono ancora miti e nelle aule si possono tenere le finestre aperte il freddo cambierà le cose ma leggiamo assieme stiamo registrando un lieve aumento dei casi tra i bambini in età scolare si parla sempre di coviddi nessuna emergenza ma quello che ci preoccupa è che il peggio deve ancora arrivare perché le temperature sono ancora miti e nelle aule si possono tenere le finestre aperte quando arriverà il freddo e ci sarà un ritorno drastico alla vita al chiuso i contagi coviddi aumenteranno molto visto che non c'è più il distanziamento o l'uso delle mascherine e qui abbiamo i veggenti abbiamo nostradamus che si è reincarnato nel presidente della federazione dei medici pediatri così alla dn cronus salute antonio davino presidente fimp la federazione italiana medici pediatri facendo il punto della situazione dei contagi coviddi a scuola attenzione all'arrivo dell'influenza avverte il presidente fimp olala dopo tre anni torna l'influenza era andata in vacanza alle maldive ed ho ritornata per noi quindi questa influenza che si incisterà su questo aumento dei contagi coviddi complicando le diagnosi incistare è un verbo particolare a diversi significati in questo caso suppongo significhi si inserirà nei contagi covid complicando le diagnosi ma andiamo avanti secondo i dati del rapporto dell'istituto superiore di sanità covid 19 sorveglianza impatto dell'infezione ed efficacia bazzinale che noi conosciamo bene perché ve l'ho mostrato di recente vi ho mostrato l'aggiornamento al 5 ottobre 2022 dall'inizio dell'epidemia attenzione però non era una pandemia adesso è diventata epidemia almeno nei decreti di mister conti e mister draghi all'inizio compariva il nome pandemia poi è diventato epidemia ma per il presidente della film è sempre stata epidemia quindi dall'inizio di questa cosa sono stati diagnosticati e riportati 4 milioni 628 mila 181 casi nella popolazione 0 19 anni di cui 23 mila 563 ospedalizzati 525 ricoverati in terapia intensiva e 73 deceduti e il presidente della film sciorinando questi dati pensa di spaventare la popolazione analizziamoli assieme quanti casi 4 milioni 628 mila 181 e i morti 73 e e questa sarebbe una malattia pericolosa che si ammalano in 4 milioni 628 milioni 628 mila 181 ovvero la popolazione di napoli più la popolazione di milano più ci aggiungete ancora 300 mila abitanti e in due anni e mezzo ne sono morti 73 e questa è la terribile malattia per cui bisogna correre ed inoculare più doti possibile per quanto riguarda l'abbazinazione anticovinti nella fascia 5 12 anni siamo fermi al 38 40 per cento dei bambini molta variabilità regionale precisa da vino come pediatri da qualche mese siamo impegnati in modo significativo sul fronte della prevenzione e su quello delle bazzinazioni ricorda il responsabile della film attenzione al finale ma c'è un nodo per far aumentare le immunizzazioni dei bambini occorrerà che aumentino i casi e a parte che questo personaggio ci parla ancora di immunizzazione quando la casa produttrice Pfizer nella persona di Janine Small ha detto chiaramente che il bazzino non immunizza e qui si parla ancora di immunizzazioni occorrerà che aumentino i casi cioè io devo pensare che no fatemi capire sapete che Mimar è un mentecatto lui legge i testi ma non li capisce cioè almeno nove volte su dieci lui non li capisce quindi occorrerà che aumentino i casi cosa vuol dire cosa devo pensare io i casi aumentano da soli o c'è qualcuno che li fa aumentare no sto domandando è da mentecatto che non capisce quello che legge ovvero che si inneschi un po di paura nei genitori a per far spaventare i genitori e far portare i bimbi ad inocularsi ma vi rendete conto noi continueremo a lavorare su questo fronte convinti delle validità delle linee guida nazionali e questo è un medico che ha fatto il giuramento di Ippocrate che non sa neanche che quella sostanza non immunizza e vuole spaventare i genitori vuole mettiamola così che i casi aumentino per far spaventare i genitori e far sì che portino i loro figli abbazzinarsi Per mevrouw Smol ho ho la prossima domanda dove voglio un rispettare i genitori e far spaventare i genitori e ho parlato in inglese così che ci sono nulla scopertare i genitori aveva il vaccino di Pfizer-Covid-vaccine testato per stoppare la trasmissione del virus prima che il mercato è entrato? Se non, spiega lo chiaramente. Se sì, siete disposti di spaventare i dati con questo comitato? e voglio davvero una risposta direttamente, sì o no, e sono avvenuto. Grazie molto. Per quanto riguarda la domanda, conosciamo la stoppia di umanizzazione prima di entrare il mercato? No, abbiamo bisogno di riuscire a scegliere la scienza per capire cosa sta a fare nel mercato. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.